Il mausoleo e santuario di Rukn-i-Alam, situato a Multan, nella regione di Punjab in Pakistan, è noto per la sua imponente cupola bianca e la posizione prominente sul lato sud-occidentale dell'alto piano del forte di Multan, rendendolo il più visibile tra i numerosi templi sufi della città. Ci sono due teorie principali riguardo alle origini di questo mausoleo. La prima sostiene che sia stato originariamente costruito dal sultano di Delhi come suo mausoleo personale, ma poi un successivo sultano ne prese il controllo e trasferì al suo interno la salma di Rukn-i-Alam, precedentemente sepolta con il nonno. La seconda teoria, più recente, propone che Rukn-i-Alam abbia progettato il mausoleo per sé stesso, ma morì prima del completamento dei lavori, venendo quindi sepolto temporaneamente accanto al nonno fino al termine della costruzione. Tra il 1971 e il 1977 il mausoleo è stato sottoposto a un significativo restauro che ha rafforzato le sue fondamenta, ricostruito le pareti in mattoni del primo piano, sostituito le piastrelle danneggiate e riparato le strutture in legno. Il sarcofago, al suo interno, protetto da tende di perline colorate e abbellito con fiori freschi, sembra essere stato allestito recentemente nonostante l'antichità del sito. Il mausoleo presenta una cupola bianca dominante con un diametro di 18 metri e un'altezza totale di 30 metri, è retta su un forte che si eleva di 15 metri sopra la città, conferendo al santuario un'impressionante vista dominante. Le mure esterne sono fatte di mattoni rossi con piastrelle smaltate in azzurro e bianco che creano un affascinante gioco di ombre e luce, evidenziando l'arte dell'uso moderato ma strategico delle piastrelle che intensifica l'effetto decorativo in contrasto con i mattoni grezzi. La scelta del bianco per la cupola rappresenta simbolicamente la purezza e l'ascensione spirituale, sottolineando il profondo significato religioso del santuario. Questo mausoleo non è solo una meraviglia architettonica, ma anche un luogo di grande importanza spirituale e culturale per la comunità sufi e per i visitatori di tutto il mondo. Il mausoleo di Rukhni Alam rappresenta quindi un pezzo fondamentale dell'architettura religiosa del Pakistan e un esempio emblematico dell'arte islamica e continua a influenzare e ispirare. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!